Wewe ragazzi e bentornati, oggi vi insegnerò a fare la missione edizione limitata dove bisogna trovare tre copie di assolo interminabile magazine in mettiti in marcia Allora raga ovviamente dovrete innanzitutto startare la mettiti in marcia e una volta che l'avrete startata dovrete ovviamente proseguire col furgone difendendolo perché la missione va completata Ma la domanda che tutti si fanno è dove li trovo questi giornaletti? Allora considerando che comunque l'unica zona dove io sono riuscito a trovarli nella mappa è questa qui che in questo caso è alla fine ci va pure bene Riesco a mostrarvela veramente bene che è la zona nuova del minigioco nuovo infatti questo minigioco prima non era disponibile Allora come funziona? Una volta che il furgone arriva qua durante la difesa si fermerà dovremo difenderlo non potremo neanche costruire perché avanzerà piano piano Quindi voi cosa fate? Guardate da questo lato? Allora qua avete lo store, vi guardate indietro da questa struttura più o meno spaccata, la jail, la prigione sarebbe E qui sotto c'è un UFO schiantato Allora la maggior parte delle volte io l'ho trovata direttamente qua come vi farò vedere da alcune clip Se vi capita di non trovarla qua io vi consiglio comunque anche di andare nell'edificio di fronte E successivamente salire queste scale lo potrete trovare anche qua da qualche parte E a me è successo persino di trovarlo sopra questa montagna Questa montagnetta qui da qualche parte Ora non mi ricordo precisamente ma per vostra fortuna ho salvato tutte le clip quindi ho il modo di farvelo vedere Quindi ricapitolando cosa dovrete fare? Semplicemente arrivate in questa zona col furgone quindi difendendo il furgone Quando il furgone si fermerà qui non prima perché non lo vedrete mai Quando il furgone si ferma voi cercherete il pezzo Lo raccoglierete non vi segnerà che l'avete preso infatti vi segnerà ancora 0 su 3 1 su 3 a differenza di quanto eravate prima E quando finirete la mettete in marcia la vincerete perché dovrete vincerla vi segnerà il punto E' abbastanza semplice raga io spero di essere stato il quanto più chiaro possibile Mi raccomando se avete domande fatemele qua sotto nei commenti Spada tempesta gendarme alle seguenti perk I pugnali della tempesta di kunai esplodono poco dopo l'impatto Infliggendo 8 danni energetici base in un raggio di 0,5 unità Quindi è una perk molto molto importante per i kunai Non vi nascondo che è molto molto divertente Oppure dovrete scegliere Ragnarok Impatto sismico torna al suo punto d'origine Aumenta danni e impatto da impatto sismico del 125% Quindi mi raccomando prestate ben attenzione e fate la scelta che si addice più a voi Sono entrambi ottime perk Ecco personalmente vi consiglierei Ragnarok In quanto la tempesta di kunai è un'abilità molto divertente e molto utile Ma non che uso particolarmente spesso Comunque l'impatto sismico magari avendolo su gesto archeologo Comunque sugli stranieri magari mentre farmi ogni tanto per difenderti Lo usi l'impatto sismico Oppure se ti fai la build con la regina dei ghiacci per congelare gli zombie Lo usi l'impatto sismico Insomma ci sono tante ragioni che mi spingono a dirvi Comunque di prestare bene attenzione a quello che scegliete Per oggi è tutto So che il video dura poco ma la missione è veramente veramente semplice Se avete problemi nell'affrontare la missione Vi consiglio di entrare nel mio server discord Troverete il link in descrizione E troverete magari qualcuno con cui affrontare la missione Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore Per farlo ti basta inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite Noi ci vediamo domani Bella bella Ciao